che cosa è la voglia di libertà? Noi sappiamo come si sarebbero comportati quelli che nel 1945 in Italia avevano voglia di libertà nei confronti di questi rifugiati, gente che scappa dai loro paesi perché sono in guerra, perché verrebbero uccisi, perché verrebbero messacrati. Noi sappiamo come si sarebbero comportati i fascisti nei loro confronti, con i manganati, con l'aiuto di Regino e il posto governo con i rettati, con i manganati, dove è il fascismo oggi, è il governo del fascismo oggi, quando la libertà è possibile, questo bisogna dirlo, non si dica, tosta con le mistificazioni, Berlusconi oggi è in Acuila, parla del terremoto, perché non ne ha parlato prima, quando la sua impresa, la impresina costruiva quell'ospedale sotto cui voleva la gente, basta con le ipocrisie, a questi signori non gli hanno l'attacco sul ponte di Messina, sono impotiti, sono la loro che hanno ucciso queste persone, bisogna dire, perché bisogna smetterla di stare ai giochetti, bisogna dirlo, bisogna dire che che devono smetterla di romperci i coglioni e prenderci per il culo, quando c'è la festa della donna, lo sappiamo che Berlusconi, figli Edandi ed altri vanno sulle tombe degli stupratori, come oggi vanno sulle tombe dei fascisti, questa è differenza, noi amiamo la libertà, non solo la Costituzione, ma soprattutto la libertà, le Costituzioni cambiano, ma le libertà si difendono ed oggi ne abbiamo bisogno, sapete perché ne abbiamo bisogno? Perché ci prendono per il culo con questa storia della sicurezza, chiedetelo a questo governo cos'è la sicurezza, è una cozzaglia di leggi razziste, è una cozzaglia di leggi liberticide, è una cozzaglia di leggi in cui tu non decidi più neanche di poter morire, perché decidono loro quando ti staccano la cannuccia, questo è il fascismo etico dell'oggi e ricordatevelo, è vero che la storia non si ripete mai allo stesso modo, ma è anche vero che la storia può ripetere episodi tragici in maniera differente, questo è l'oggi, l'episodio tragico in maniera differente, non c'è democrazia qua, c'è una parovina della democrazia, perché la democrazia non distingue le persone per dove sono nate, li distingue per i loro meriti, li distingue perché sono capaci di relazionarsi con gli altri, non integrati, capaci di relazionarsi oppure no, questi li distinguono per razze, questo è il razzismo, odio i negri e non sono razzista, lo dica Berlusconi perché è un razzista, lui che è poco bronzato per usare i suoi termini, questo è il problema dell'oggi, questo governo parla di sicurezza, ha appena approvato una legge per cui quelli che uccidono sui posti di lavoro non verranno in nessun modo perseguiti se non con qualche piccola multa, ecco qual è la differenza, noi amiamo la libertà, loro stanno cercando di rifare ciò che avevano fatto 40 anni fa con altri mezzi, con altri strumenti, sanno cambiare ma non sono diversi nell'animo e l'animo si riconosce, noi stanno per il cuore e per l'amore, loro perché cazzo c'è?